L'atelier ha come obiettivo quello di insegnare a progettare architetture nelle quali le soluzioni e problemi strutturali non siano semplicemente soluzioni tecniche ma siano anche soluzioni architettoniche. Questo perché pensiamo che uno dei compiti dell'architettura sia quello di esprimere con la sua forma perché e come è stata costruita. In particolare nell'atelier lo studente impara a mettere in relazione le scelte strutturali con gli aspetti distributivi del progetto. Il tema che stiamo affrontando in questi anni poi è particolarmente innovativo, si tratta infatti dell'architettura per la ciclabilità, le velo stazioni che nell'atelier sono intese come ponti abitati, cioè infrastrutture che non solo risolvono i nodi della viabilità ciclabile ma offrono anche una serie di servizi come ad esempio il bernottamento in bike hotel. Un altro aspetto innovativo dell'atelier riguarda poi l'uso che facciamo di una piattaforma online che permette a tutti di visualizzare gli elaborati prodotti e di svolgere correzioni a distanza.